FENC, pillole per dimagrire velocemente efficaci, le migliori, naturali e senza rischi. Per saperne di più, visita, bit.ly barra FENC 365. Lo mangi spesso? Questo legume è il salvacuore più potente in assoluto. Combatte anche colesterolo, diabete e ipertensione. Sapevi che esiste un legume salvacuore? Se stai pensando alle lenticchie sei fuori strada. Si tratta, infatti, dei lupini, un legume ricco di proprietà benefiche che può essere consumato anche dai celiaci in quanto privo di glutine. Perché i lupini sono un salvacuore?. I lupini sono definiti un salvacuore in quanto grazie alla loro naturale composizione aiutano a sconfiggere diversi problemi di salute e a promuovere la salute del cuore. Essi sono composti da. Lo adding. 10 acqua. 36 proteine. 3,2 ceneri. 9,5 omega 3, omega 6. Più minerali, vitamine e amminoacidi. Le azioni benefiche che rendono i lupini un salvacuore. Migliorano la digestione. Migliorano la digestione. Donano energia allorganismo. Contrastano il diabete. Contrastano il diabete. Aiutano a contrastare il colesterolo. Le fibre che contengono contrastano la stipsi. Proteggono dalle malattie cardiovascolari ed in particolare da aterosclerosi, infarto ed ictus. Migliorano il funzionamento del sistema immunitario. Promuovono la salute muscolare. Proteggono le ossa sempre. Sono antiossidanti e prevengono i danni dei radicali liberi. Proteggono dal tumore al colon. Aiutano lorganismo ad eliminare scorie e tossine. Sono ricchi di ferro e vitamina C. Contrastano stanchezza e spussatezza. Contrastano stanchezza e spussatezza. Grazie a tutti.